Ciao e ben ritrovato e ben ritrovata sul mio canale. Oggi voglio parlarti della capacità di fare una scelta. Una volta credevo che fare una scelta significasse non avere dubbi, che significasse avere tante possibilità davanti e di colpo vedere chiaramente quella che ti chiama ignorando senza fatica e senza dolore tutte le altre. Poi ho capito che la maggior parte delle volte non funziona così. Se tu aspetti di avere tutto chiaro davanti a te per fare una scelta potresti aspettare all'infinito. Fare una scelta non significa avere la certezza della direzione che stai per prendere, ma significa prendere una direzione nonostante l'incertezza, nonostante i dubbi, la nebbia, il buio che trovi davanti a te. Certo nel caso in cui le tue risposte interiori sono nette e decise, come per esempio un no chiaro e forte, oppure un sì limpido e netto, allora sai cosa fare? Nel caso di un no non devi prendere quella strada e nel caso di un sì potresti pentirti se invece non lo fai. La maggior parte delle volte, tuttavia, riguardano i forse, i chissà. Siamo attanagliati dai dubbi, nulla è davvero chiaro, tutto è confuso, c'è una grandissima nebbia nella nostra testa, nelle nostre emozioni e temiamo ad avanzare perché temiamo di sbagliare. La cosa migliore è cercare ovviamente di muoversi avendo l'approvazione della propria intuizione e l'intuizione non significa che si ha per forza un sì interiore, ma si può avere anche una vocina che dice prova e scoprilo da te. Capita, non di rado, che la strada prenda forma solo dopo che ti metti in moto e non è perché hai soltanto una visuale migliore e più chiara visto che hai fatto dei passi avanti, ma è proprio perché la direzione prende forma nel momento in cui la scegli, quindi la lezione dell'attraversare l'incertezza è riuscire a creare la propria certezza attraversando i dubbi. C'è anche il caso poi in cui ci sentiamo chiamati da molteplici direzioni, è come se avessimo un sì interiore su tutte le possibili diramazioni e allora quale strada prendere? In tali situazioni ti consiglio di seguire due criteri. Il primo criterio ovviamente è quello del tuo cuore. Le strade che stai valutando devono avere l'appoggio del tuo cuore, l'appoggio della tua verità interiore, non devono contraddire la visuale della tua anima. Deve essere una strada scelta non dai ragionamenti mentali, non da emozioni improvvise, ma dalla tua verità, da quello che tu sei. Il secondo criterio che fa la differenza è quello di guardare quale impatto hai sugli altri. Una strada ti porta ad avere un determinato impatto e un'altra strada te ne porta ad avere un altro. E per impatto intendo il numero di persone che riesci ad aiutare o ad ispirare. Per esempio potresti essere indeciso se studiare arte, se dedicarti a scrivere libri o addirittura fare un'attività completamente diversa di carattere tecnico. La strada che ha il maggiore impatto sulle persone, quella che raggiunge il numero maggiore dei cuori, quella che lascia ispirazione e positività dentro le anime degli altri. È la strada che avrà il maggior supporto da parte delle forze universali. Noi non seguiamo un percorso solo per noi stessi, ma i nostri passi sono inseriti all'interno di un disegno più grande. Questo disegno ci manifesta il suo massimo appoggio nel momento in cui noi lo assecondiamo ed è per questo che più tu coinvolgi e raggiungi il cuore degli uomini e più il disegno universale ti sosterrà.